ha vinto il titolo di regina d'italia senza passare per miss italia o sposare un re è sepolta in san pietro senza essere santa è protagonista di leggende in cui parla con la madonna e con il diavolo esatto è la presunta amante di imperatori e papi più chiamarla la temevano è una master chef che inventa ricette costruisce castelli e chiese matilde molto spesso sottovalutata le donne spesso sono sottovalutate si usi sono gabba non sono sardo signore di canossa si usi bleddy tutto ciò che tocca o calpesta porta il suo nome lei è matilde di canossa per noi la signora matilde mica male no 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 no